Dal mondo del lavoro la FIOM CGL non firma l'accordo sottoscritto in regione sul futuro dell'OM Carrelli di Bari. Per farlo chiede garanzie sulla reindustrializzazione del sito. Lo definiscono un epilogo che lascia attoniti e sono irremovibili i sindacalisti della FIOM CGL. Non firmeranno l'accordo sull'OM Carrelli siglato alla vigilia di Natale in regione dall'azienda Chiome e dagli altri sindacati. E' questo perché l'epilogo della lunga battaglia dello stabilimento di Modugno iniziata il 5 luglio 2011 con la lettera del presidente del gruppo Chiome che ne decretava la chiusura modifica in peggio gli accordi fatti in questi anni al Ministero dello Sviluppo Economico. Nel verbale d'intesa la multinazionale tedesca si impegna a individuare nuovi investitori interessati allo stabilimento chiuso da due anni e con 230 lavoratori in cassa integrazione. Tanti di loro hanno presidiato per mesi cancelli impedendo l'ingresso ai camion che volevano portare via gli ultimi carrelli prodotti. Iniziativa per la quale in 29 sono stati denunciati. Con l'accordo la Chiome si impegnava a ritirare le denunce a patto che i lavoratori smantellassero il presidio, cosa che è accaduta. Una prassi pericolosa secondo la CGL è quella di usare la denuncia penale come contropartita per sospendere le azioni di lotta. Anche per questo il sindacato respinge quello che definisce un ricatto, il fatto che l'accordo possa saltare se la FIOM non firma. Per farlo invece chiede la riapertura del tavolo. Chiedere che all'interno di quell'accordo ci siano tutti gli accordi che dal nostro punto di vista erano migliorativi, già ottenuti dalle organizzazioni sindacali e anche grazie all'aiuto e al sostegno delle istituzioni locali che avevano lavorato con noi anche al Ministero di Sviluppo Economico, che oggi vediamo in quell'accordo sparire. In caso contrario la FIOM andrà avanti, l'avvertenza non è chiusa.